E' nota ormai da sempre in USA la partnership di Canam e di BRP con le forze dell'ordine. Questi sono mezzi allestiti appunto per il 911 e per la polizia stradale, che prestano servizio realmente sulle strade di New York e degli USA, dotati di lampeggianti e tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza urbana. Crociani Group ve le presenta in anteprima.